Cresce l'attesa per la prima edizione delle bolle in birra in programma dal 7 al 9 settembre presso l'area parcheggio del centro commerciale Le Bolle. Ad organizzare l'evento l'associazione Tre e Eboli del presidente Daniela Bartolomeo con il vicepresidente Cosimo Vecchio, Biagio Sica e Liberato Santoro. Una tre giorni per far conoscere la birra in tutte le sue sfaccettature in cui ci saranno momenti di intrattenimento, di spettacolo ma anche di formazione con corsi svolti da maestri birrai in programma sabato e domenica dalle ore 17.30. Numerosi anche gli spettacoli dal vivo con artisti del territorio. Venerdì 7 dopo l'inaugurazione ci saranno le esibizioni di scuole di ballo della provincia e alle 22.30 il concerto della band Il Bella Vista. Sabato 8 alle 21 il concerto dei Terre Mares. A seguire alle 22.30 il concerto di Valerio Iovine e la sua band. Domenica 9 alle 21 il cabaret con Simone Schettino ed il gran finale con il concerto della Fruit Joy Big Band.